Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con la nuovissima puntata di Spirity with me Cristiano Cervini e oggi dovete stare pronti perché febbraio iniziato nel migliore dei modi con il drama di Elettra Lamborghini che ha scoperto in questi giorni di avere una sorella segreta. Quindi andate a prendere il vostro snack o bevanda preferita, mettete mi piace a questo video se lo state guardando su YouTube, per tutti gli altri ascoltatori del podcast vi amo, seguitemi mi raccomando, sorso iniziale e prepariamoci perché vi devo raccontare qualsiasi cosa dall'inizio di questa storia fino ai giorni d'oggi. Allora, siamo pronti, ma prima vi dico che ho ricevuto da parte vostra 800 miliardi di direct su Instagram soprattutto in cui mi dicevate che c'era Bucalalla che durante le sue live sul sito Viola mi mandava i saluti e meno male che lo avete fatto perché ho scoperto che lei qualche sera fa aveva intenzione di parlare di questo caso e quindi siccome durante le mie ricuerche in giro per il web avevo qualche punto che non avevo ben capito mi sono andato a riguardare anche la sua live e quindi penso di aver fatto un ottimo lavoro di ricostruzione anche grazie a lei. Anyway, ragazze e ragazzi, iniziamo dall'inizio perché in questa storia ci sono tre protagonisti. Da una parte c'è Flavia Borzone, una ragazza napoletana di 35 anni, sua madre Rosalba Colosimo, o Colosimo? Colosimo penso, che è appunto una cantante lirica, mentre dall'altra parte del ring ci sarebbe Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio Lamborghini, il fondatore, niente po' di meno, della casa automobilistica Lamborghini. Tonino Lamborghini è anche il padre della nostra amata Elettra Lamborghini, capite? Ma continuiamo a parlare della storia. Come mai ci sono queste persone che stanno in qualche modo litigando? La storia in verità partirebbe molti mesi fa, addirittura quando Barbara D'Urzo era ancora la regina di Mediaset. Infatti Flavia Borzone avrebbe partecipato al live Nonella D'Urzo in qualità di ospite, raccontando la sua storia, raccontando anche la sua verità. Flavia Borzone non è altro che una ragazza comune come tutti noi, se non che è cresciuta soltanto con sua madre Rosalba. Il padre sembrerebbe ignoto, ma arriva qui il motivo della sua ospitata in tv, sarebbe, a detta della madre Rosalba, niente po' di meno che Tonino Lamborghini, in quanto, ormai 36 anni fa, la madre di Flavia e Tonino avrebbero avuto una relazione d'amore e da questa relazione il frutto che ne è nato sarebbe Flavia. Ok? Il zucco del discorso è questo. Flavia è andata in televisione e anche poi ha rilasciato delle interviste su Nuovo TV in quanto è convinta di essere una delle figlie di Tonino Lamborghini. Ok? Dall'altra parte però Tonino Lamborghini è sempre negato, quindi dice non è vero niente, te non sei mia figlia, vuoi solo popolarità. E qui inizia quindi un processo sia mediatico e sia anche giuridico. Allora, ragazzi, lo so. Oggi è un episodio un po' diverso di Spill in the Tea perché andiamo anche un po' nel true crime, ma anche se fortunatamente sono ancora tutti vivi. Il fatto sta che dovete fare attenzione a me. Cosa è successo? Flavia Borzone e sua mamma Rosalba, come vi ho già detto, hanno partecipato in questa trasmissione di Barbara Durso in cui hanno raccontato la loro storia. E poi la stessa Flavia aveva rilasciato un'intervista, diciamo così, sul giornale Nuovo TV in cui aveva fatto un appello a sua sorella Elettra e aveva scritto questo. Elettra, mettiti nei miei panni e aiutami a sensibilizzare tuo padre. Vorrei parlare con lui e scoprire la verità, credo sia l'unica via possibile. Ho provato tante volte a contattare Tonino privatamente senza coinvolgere avvocati e giornalisti, ma da lui non ho avuto risposta. Ho pure contattato sua moglie, ma mi ha risposto che lui non voleva avere alcun colloquio con me. E quindi, a detta di Flavia, lei aveva provato, prima della televisione, prima dei giornali, ad avere un rapporto comunque pacifico o anche un colloquio, no, conoscitivo, o solo per sapere la verità, con Tonino privatamente. Ma siccome lui ha sempre negato questa possibilità, l'unica cosa che lei ha pensato che potesse un po' smuovere le acque era appunto quella di andare in televisione e sputtane chiunque. Dopo queste cose, sia l'ospitata in tv, sia l'intervista sul giornale, Tonino Lamborghini risponde così. Vado subito dai carabinieri. Subito, subito, denunciare, subito. Subito, nei carabinieri, subito, subito. E infatti querelerà... Scusate, cara Citt, non stavo ridendo di questa storia. E infatti querelerà sia Flavia, sia la madre Rosalba. Perché a detta sua hanno detto soltanto delle castronerie, vogliono soltanto popolarità a discapito della sua reputazione e quindi le acque relate per diffamazione. Iniziano così, ragazzi, ragazze e ragazzo, due processi separati. Il primo è quello penale, e vi leggo, presso il Tribunale Penale Seconda Sezione di Bologna, che è quello per diffamazione aggravata. Il secondo sarebbe il processo civile nel Tribunale di Napoli per il riconoscimento della paternità, ok? E adesso è in atto, è iniziato il processo, quello a Bologna, quello penale per diffamazione. Quindi, ricapitolando, Tonino ha portato, ha trascinato in tribunale Flavia e la mamma Rosalba di 62 anni perché, appunto, hanno sparlato di lui, ok? In televisione, in pubblico, e quindi vuole subito, subito vendetta. Dall'altra parte, invece, Flavia vuole sapere se Tonino è suo padre veramente. E quindi, di tutta risposta, a Napoli ci sarà poi questo processo civile per il riconoscimento o il disconoscimento della paternità, ok? Oggi però parliamo di quello di Bologna perché qualche giorno fa c'è stato un altro incontro, c'è stata un'altra udienza dove cui arriva una notizia super shock che potrebbe ribaltare qualsiasi situazione possibile fino a questo momento. E, infatti, la difesa avrebbe portato una prova super shock e darebbe una svolta a questo caso. E, infatti, loro portano la prova del DNA di Elettra Lamborghini che coinciderebbe al 100% con quello di Flavia. E quindi le due sarebbero realmente sorelle e, in più, sorelle dello stesso padre. Tutti noi siamo scioccati. Anche perché, durante questo processo, gli avvocati difensori di Flavia avevano già provato a richiedere al giudice un test del DNA da parte di Tonino. Ma lui si era sempre rifiutato. Ma, principalmente anche in questo processo, addirittura il giudice aveva detto no, non ci interessa questa roba e quindi aveva negato la possibilità di fare il DNA a Tonino. Perché vi ricordo che a Bologna c'è il processo per la diffamazione aggravata, non per la paternità, ok? Il fatto, però, è che gli avvocati della difesa di Flavia hanno portato questa prova perché, ovviamente, è una prova super shock. E l'avrebbero portata proprio perché, sapendo con certezza che, quindi, Tonino sarebbe il padre biologico di Flavia, in realtà cadrebbe anche tutta l'accusa di diffamazione in televisione poiché, appunto, loro assistite, quindi Flavia e Rosalba, quando hanno fatto le dichiarazioni tempo addietro, in realtà non sono state diffamatorie ma, semplicemente, loro dicevano la verità anche perché il padre è proprio lui. Ok? Avete capito un po' questo ragionamento? Il fatto, però, è che tutti ci siamo domandati, è, ok, ma come hanno fatto a prelevare il DNA di Elettra Lamborghini? Glielo hanno chiesto e lei, molto felicemente, ha donato la sua saliva, un suo capello o qualcosa? No. Proprio no, ragazzi. Lo avrebbero fatto tramite degli investigatori privati, in quanto gli avvocati della difesa di Flavia e di Rosalba, avrebbero, proprio detto, durante questa nuova udienza, che hanno ingaggiato quattro investigatori privati per le indagini difensive che avrebbero seguito Elettra e avrebbero prelevato una cannuccia che lei aveva usato per bere un frappè durante un suo evento e da quella cannuccia hanno trovato la sua saliva e quindi hanno fatto poi il test del DNA nell'Università di Ferrara, mi sembra di ricordare, non sono sicuro, e da questo campione, da questo test, hanno scoperto che Elettra e Flavia sono sorelle al 100%. Ora, raghi, ok, mega clamore, mega scoop, oh mio Dio, allora è tutto vero quello che ha detto Flavia in questi anni, in questi mesi, però io mi domando una cosa, ma si può fare questa cosa? Nel senso, è legale fare un test del DNA senza che io lo sappia o prendendomi delle cose contro la mia volontà? Nel senso, io non so niente, butto via, non lo so, a una cicca in un cestino e voi lo prendete e mi fate il test. Si può fare questa cosa? Non lo so, e soprattutto, a valenza, nel senso, il giudice può accettare una prova del genere dato che prima aveva comunque negato la possibilità a Tonino di poter fare il test il giudice stesso? Non lo so, questo me lo direte voi perché io, come ben sapete, di diritto, di legislature, di avvocati, non so niente, ma vi riporto, insomma, un po' il gossip, no, della situation e a questa cosa, a questo mio dubbio, è come se volesse rispondere in qualche modo uno degli avvocati di Tonino Lamborghini. Infatti, una volta presentato il test del DNA di Elettra, con il risultato, appunto, super favorevole per quanto riguarda Flavia, l'avvocato Lamborghini avrebbe detto questo, in questo giudizio era già stato chiesto dalla difesa un esame del DNA che è stato respinto dal giudice, come vi ho già detto. La sede deputata a un simile accertamento è una causa civile, quella di Napoli. Il punto del processo in atto sono invece le frasi diffamatorie pronunciate nei confronti del mio assistito, dando per scontato che la figlia e l'imputata siano sorelle e trattandolo per questo in malo modo. Ora, puoi anche aver ragione, no, nel rigirare un po' la frittata oppure nel pensare che gli altri hanno voluto rigirare la frittata per fare clamore mediatico e tutto quanto. Però, sì, già che il tuo assistito tempo addietro aveva già negato, no, la possibilità di fare un test del DNA e ora parliamo, vi dico anche perché. Già lì, lasciate perdere la decisione del giudice che comunque, boh, ha detto, no, non c'è bisogno, respingo la richiesta, qui stiamo parlando di altre cose, non ci interessa se è veramente il padre oppure no. In realtà, interesserebbe perché appunto tutte le cose che hanno detto Flavia e la madre in televisione riguarderebbero proprio il fatto che lui sia suo padre. Quindi, la cosa principale sarebbe stata quella scoprire se il padre è veramente il padre, no? Per vedere se mi ha sputtanè oppure no o si ha detto solo castronerie. Il fatto è che io penso, già che un uomo si rifiuta categoricamente di voler fare un test del DNA significa che probabilmente un po' ti brucia perché qualche possibilità che lei sia veramente tua figlia ce l'hai in mente e qui arrivano le dichiarazioni di Flavia perché avrebbe detto anche nello stesso tribunale che lei e Tonino si sarebbero già incontrati una sola volta nel lontano 2019 e più precisamente nel febbraio 2019 in quanto lei era andata diciamo a fare un po' come si può dire un'imboscata nel museo Lamborghini aspettando l'arrivo di Tonino e una volta arrivato le sarebbe andato incontro per parlare e in quell'occasione Flavia avrebbe detto che Tonino le avrebbe detto queste parole quel giorno mi ha confermato Tonino della relazione con mia madre e che effettivamente avrei potuto essere sua figlia ma ha detto che non si sarebbe mai sottoposto al test del DNA quindi è per quello che io vi dico vi ho detto prima che il padre da sempre si era negato per il test del DNA se è vero che questa cosa c'è stata questo incontro segreto c'è stato e lui avrebbe detto di no vuol dire che qualcosa c'è raga cioè lui lo sapeva solo che non voleva magagne o non voleva ridistribuire la sua eredità perché già aveva abbastanza figli oltre Lettra e tutto questo sarebbe andato in qualche modo a minare la sua nuova famiglia I don't know non so niente raga fatto sta che con questo nuovo testo del DNA fatto all'insaputa di Lettra ad Lettra abbiamo scoperto che le due sono sorelle e quindi il padre di Flavia sarebbe Tonino ma questo è un altro discorso perché questa prova quasi sicuramente verrà presentata poi anche a Napoli per il riconoscimento della paternità vedremo come risponderanno a quel punto gli avvocati di Tonino vedremo come si risolverà questa situazione anche perché nel caso in cui accettassero questa prova e quindi decidessero di sottoporre anche Tonino per forza di cose al test del DNA mi sa io non so come funziona ma mi sa che lui dovrà dare un po' di arrietrati degli alimenti per la crescita della figlia che ormai è grande che ha 35 anni ma per tutti questi anni non c'è stato lui o comunque in qualche modo nel testamento ce la deve metterci deve essere per forza perché se è veramente una sua figlia come dimostra il DNA una parte dell'eredità se la piglia per forza fatto sta che appunto come risposta alla risposta degli avvocati di Tonino che dicono questo test non ci incastra nulla con questo processo dobbiamo soltanto pensare alla diffamazione fatta a discapito del mio cliente in televisione e sui giornali gli avvocati di Flavia e di Rosalba rispondono così ma no noi abbiamo portato proprio questa prova del test del DNA proprio per farvi capire che siccome Tonino è veramente il padre di Flavia quella volta in televisione e sui giornali non c'è stata nessuna diffamazione da parte delle nostre assistite perché stavano semplicemente dicendo la verità il tutto si basa su questo raga questo processo di Bologna si basa su determinate frasi ok Flavia e la mamma in televisione hanno sputtanè diffamando Tonino nonostante ora abbiamo la prova che è suo padre all'epoca non lo sapevano quindi erano tutte congetture non si sa il giudice cosa dirà al riguardo perché comunque ci sarà una nuova udienza tipo a marzo non so come funziona perché boh diciamo che si è ritirato a deliberare dovrà pensare poi magari nella prossima udienza ci saranno nuove cose sciocche insomma secondo me ragazzi ragazzi questo febbraio e soprattutto questo 2024 potrebbe essere un anno nuovo pregno di super cose da raccontarvi in Spilling the Tea e soprattutto probabilmente siamo all'inizio di una nuova saga raga perché bisogna vedere cosa succederà adesso al momento che sto registrando Elettra Lamborghini non ha ancora almeno sui suoi social detto niente al riguardo possiamo soltanto immaginare come abbia preso la notizia perché ora che è da un po' di anni che ha litigato con Ginevra e quindi non ci parla più e quindi diciamo che da parte sua non ha più una sorella potrebbe essere una bella cosa averne trovata una nuova ma al tempo stesso potrebbe anche essere una cosa un po' disturbante no? perché boh magari scopri tutto in un tratto che hai una sorella nuova di cui non sai niente o magari di cui fino a questo momento hai sempre pensato che dicesse castroneri castronerie soltanto per la popolarità al tempo stesso hai capito che tuo padre per tutti questi anni magari ti ha mentito perché io penso che ne abbiano parlato quando le due sono andate in televisione a sputtane tutta la situazione penso che loro a casa magari non lo so a pranzo o a cena abbiano detto babbo senti un attimo ma che è sta storia chi è sta qui ha ragione vado subito dai carabinieri subito e quindi ne avranno parlato e quindi il padre avrà mentito mascherato la verità quindi non lo so penso che Elettra non se la stia passando molto bene come gli altri fratelli in questo momento però vedremo se mai dovessero dire qualcosa al riguardo ovviamente se a voi fa piacere io vi farò un aggiornamento vi farò anche un aggiornamento su questi casi e su cosa succederà però in parole povere raga questo è il drama di Elettra Lamborghini o meglio anche di Tonino Lamborghini e di sua figlia segreta Flavia fatemi sapere voi adesso qua sotto tramite commento cosa ne pensate di tutta questa situazione se anche voi diciamo che pensate che Flavia e la madre lo abbiano fatto apposta soprattutto andando in televisione per far parlare di sé e quindi diventare famose se invece hanno fatto bene perché come vi ho già detto loro prima di andare in televisione hanno provato privatamente più e più volte a contattare Tonino ma senza risposta e quindi come ultima spiaggia diciamo che hanno provato la mediaticità delle cose o fatemi sapere insomma da che parte state cosa ne pensate di tutta questa storia fatto sta che abbiamo tra le mani il DNA di Elettra e di Flavia e quindi combacia al 100% le due senza alcuna ombra di dubbio sono sorelle fino a questo momento e quindi possiamo dire qualsiasi congettura ma qui carta canta a parte Marco e nulla Tonino sarà il padre sicuro ma ci sono dei tribunali che decideranno il tutto per il momento termina qua questo episodio speciale di Spendete with me Cristiano Cervigni se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale mettete mi piace a questo video se lo avete guardato su YouTube come sempre dite la vostra come sempre nei commenti noi ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao mamma mia mi tocca studiare anche leggi adesso ma vi pare con un nuovissimo video